Ok, il percorso è confermato in questo momento, sopra hanno fatto il sopralluogo, dovete fare attenzione, dopo il cancello c'è una zona dove c'è un traverso molto pericoloso, sono due chilometri, mi raccomando fate la massima attenzione, fra 11 chilometri fate un passaggio qua, prestate attenzione e partiamo fra un minuto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.